allora ecco il nostro canale che impressioni povero 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 di quello che si interessa esatto proviamo ci va? ci va andiamo andiamo ecco qua la conca dei ghiaccioni è l'alpe lassù è l'alpe lassù sì sì eccoci poco sopra il limite della neve ci mettiamo i ramponi andiamo su no dai bene che ci può canire e bene che abbiamo sbagliato canale abbiamo sbagliato canale due cose combinate esatto dai no bello bello qui si sta annuvolando adesso scendiamo per la normale stiamo affrontando il passo di misto si visto poi è no c'è perché vabbè si direbbe non è stiamo affrontando i ghiaccionati stiamo affrontando i ghiaccionati stiamo affrontando i ghiaccionati stiamo affrontando i ghiaccionati stiamo affrontando i ghiaccionati